Lo accetta. Venti Albini. Onorevole Marazzini, prego, su che cosa? Controllo, scusate. Con meno entusiasmo, ci dica. Ha un controllo. Essendo stato approvato l'emendamento Sberna sulla carta famiglia, il 299 come ordine del giorno direi che viene ritirato. La ringrazio. Allora, intanto lo togliamo dall'elenco del 298 Sberna, che quindi consideriamo ritirato anche questo. Onorevole Iannunzi, prego. Presidente, siccome non l'ho detto, aspettavo che me lo chiedesse, comunque accetto la riformulazione del 17 che ha già passato. Le chiedo scusa, non ho sentito. Siccome ha passato il mio ordine del giorno e non mi ha chiesto se l'accetto, accetto la riformulazione a valutare l'opportunità di... L'accetta, sì, ma pensavo che la componente a cui... Non faccio parte di nessuna componente, grazie. Ah, ok, la ringrazio. Le chiedo anche scusa a questo punto. Perfetto. Siamo alla... Chiedevi parlare l'onorevole Sberna? Prego. Credo che il collega si sia sbagliato, sempre con meno entusiasmo. Il 2,98 resta, è il 2,99... Ecco appunto, che risultava a noi già, peraltro, già ritirato. È già ritirato, il 2,98 resta. Oh, vero. Grazie. Eh, vabbè, l'entusiasmo a volte fa brutti scherzi. Prego. Colleghi, per favore, se mi liberate il Banco del Governo, già non è semplice. Siamo al 22, Villecco Calipari, al 20 Fusilli, 20 Albini accolto, 21 Fusilli accolto, 22 Villecco Calipari accolta, 23 Crivellari. Colleghi, per favore, mi liberate, colleghi, per favore, non mi costringete. 23 Crivellari accolto, 24 Coppola chiede la parola. Grazie, Presidente. Io, purtroppo, non posso accogliere...